Nessuno meglio di voi può aiutare la sinistra di governo, la nostra coalizione, il Partito Democratico in un lavoro di restituzione di fiducia agli italiani. Questo dobbiamo fare nei prossimi anni. Abbiamo cominciato, ma sappiamo benissimo chi vive la realtà, che abbiamo fatto un pezzetto piccolo di strada. L'Italia non è un paese facile a prendere fiducia. Dare fiducia è il contrario del piccolo cabotaggio. Se qualcuno pensasse ai prossimi anni come anni di navigazione sottobordo, di sopravvivenza, di piccolo cabotaggio per il nostro paese, credo che si sbaglierebbe di grosso. Non è stata questa neanche la navigazione complicata del governo che ho avuto l'onore di prosiedere in questo anno. Non abbiamo fatto piccolo cabotaggio, abbiamo preso delle decisioni anche molto difficili, importanti. E se tu sei credibile, sei una forza di governo, oltre ad andare lì con i risultati che hai portato, devi avere l'ambizione. E sono certo che il PD trasformerà tutto questo in un programma credibile per i prossimi cinque anni, di dire qual è il pezzo di strada che vuoi fare nei prossimi anni. Quindi abbiamo fiducia nell'Italia, abbiamo fiducia nella nostra credibilità di governo, siamo uniti, siamo ambiziosi e facciamo vincere il nostro paese. Grazie. Grazie. Grazie.